Golene chiuse dalle 2 di questa notte, la macchina amministrativa è stata operativa per l'annunciato maltempo e alcune strade sono state chiuse per allegamento. Le 48 ore di pioggia ininterrotta hanno causato non poche difficoltà a Pescara, ma già dalle prime ore di questa mattina la situazione è rientrata nella normalità. Resocondo ci dà una fotografia per alcuni aspetti positivi e per altri ancora molto allarmanti. Due giornate intense di pioggia con un terreno che ormai è pregno fino all'impossibile e quindi ormai tutte le infrastrutture dedicate alla raccolta dell'acqua piovana adesso cominciano ad andare in sofferenza. E andando in sofferenza le infrastrutture di raccolta delle acque, chiaramente abbiamo alcune zone del territorio che sono allagate. Nessun allagamento in una delle zone più a rischio, quello dello stadio. Il lungomare sud a confine di Francavilla invece ha creato qualche disagio. Resta un problema quello del maltempo che regolarmente causa preoccupazioni. In questo momento abbiamo le situazioni positive laddove riusciamo a scaricare per esempio su Fosso Valle Lunga, mentre abbiamo qualche difficoltà laddove bisogna scaricare le acque sul fiume. Adesso è un livello parzialmente rientrato, quindi c'è un segnale positivo, però è un segnale positivo parzialmente perché il fiume non riesce più a ricevere ulteriori apporti di acqua dal territorio. E questa è la ragione per la quale bisogna continuare ad agire sul problema degli allagamenti perché è un problema che è stato iniziato ad affrontare, ma è lungo dall'essere risolto.